Dopo l'ondata di maltempo dei giorni scorsi, ufficialmente scoppiata l'estate sulla costa molisana, tutti gli stabilimenti hanno completato l'allestimento dei servizi per gli ospiti, quindi dopo tutti i giorni di pioggia si tratta della prima domenica di effettivo collaudo, ombrelloni aperti, primituffi in acqua in quella che si può definire ufficialmente l'inizio della stagione balneare. Ricordiamo che la Giunta regionale con sua delibera ha stabilito l'apertura della stagione dal 1 maggio con il termine il 30 settembre. Con lo stesso provvedimento, l'esecutivo ha anche preso atto del cronoprogramma di campionamento delle acque. Questi punti critici di costante monitoraggio, Montenero di Bisaccia, la zona prospiciente di imboccatura del porto turistico, Petacciato, la foce del torrente Tecchio, Campomarino, la foce del fiume Viferno e la foce del fiume Saccione a Termoli, la foce del torrente Sinarca e la zona di Rio Vivo, oltre che la foce del Biferno. Particolare attenzione viene riservata alla località Rio Vivo, dove l'ARPA eseguirà un monitoraggio quindicinale. Tornando alla giornata di ieri, segnaliamo il rientro problematico della serata. Una fila di oltre 3 chilometri e tempo di attesa di 30 minuti per superare il semaforo posto sul viadotto della diga del Liscione. In mattinata il traffico scorrevole per la presenza di operatori sui punti critici che facilitavano il transito, bypassando l'intermittenza del semaforo, ma in serata, non essendo più operativi in servizio, si è creato il caos assoluto.